La musica è un dono che migliora la qualità della vita. Con questa massima dal 2019 la Fondazione Perugia Musica Classica organizza concerti in ospedali, carceri, istituti per persone con deficit di memoria. Dopodiché è venuta la pandemia e quindi questo naturalmente ha molto bloccato le nostre attività e quindi abbiamo provato a fare questa esperienza in streaming. Per il concerto conclusivo dell'iniziativa un piccolo ensemble dell'Orchestra da Camera di Perugia ha eseguito la Sinfonia Veneziana di Salieri, diretta dal maestro Enrico Bronzi ed eseguita al Teatro Brecht di Perugia rispettando tutte le normative anti-covid che ovviamente generano qualche problema. L'organico è di 13 persone, occupiamo tutto il palco, c'è una distanza spalla a spalla tra i musicisti, tra i fiati di un metro e mezzo. La bravura del direttore Enrico Bronzi ha permesso comunque di superare queste difficoltà e oltre al fatto che è un gruppo il nostro molto affiatato.